In advance sappiamo che la salute del tuo amico a quattro zampe è molto importante per te. Per questo motivo il nostro team di veterinari ha dedicato quattro anni alla ricerca e allo sviluppo di una nuova gamma di diete veterinari umide che uniscono scienza e gusto per offrire soluzioni alle principali patologie di cani e gatti. Perché sceglierle? Contengono ingredienti funzionali per garantire risultati reali. Gusto e consistenza eccellenti, inoltre non contengono coloranti o conservanti. Puoi combinarle con la dieta secca o nutrire il tuo amico a quattro zampe solo con il formato umido. Qualunque sia la tua scelta, Advance ti aiuterà a prenderti cura della sua salute giorno dopo giorno. Buon pomeriggio, benvenuti ai webinar di Bed and Clinics by Advance. Il nostro ospite di oggi è Xavier Roura. Lui è partecipato con noi in passato, è già venuto qua ai nostri webinar e oggi viene di nuovo quindi per tutta questa gente che già lo conoscete, perfetto per quella che ancora non sapete chi è, ve lo presento adesso. Lui è diplomato europeo medicina veterinaria e attualmente si incarica del servizio di medicina interna dell'ospedale clinico veterinario dell'Università Autonoma di Barcellona. Benvenuto, grazie per essere qua, Xavi. Grazie a voi per l'invito. Allora, partiamo col webinar di oggi. Prima di iniziare vi voglio ricordare come sempre che durante tutta l'emissione vi potete mandarsi le vostre domande tramite la chat di YouTube e una volta finiamo il professore, il relatore vi risponderà in diretta. Allora, adesso sì, partiamo col webinar. Oggi vedremo 10 più o meno differenze nella gestione della diarrea cronica nei gatti e nei cani. Cioè, prima di iniziare vi voglio spiegare qualcosa importante? Bene, sì. Probabilmente, Silvia, prima di iniziare tutta la relazione, magari penso che è importante parlare un po' di l'idea della diarrea perché anche nel titolo e soprattutto in tutta la relazione qualche volta si parla della diarrea. Ma non dobbiamo dimenticare che la diarrea alla fine è un segno clinico, ma ci sono di molti altri segni clinici che si debbano anche includere in questa patologia. Molte volte sono la diarrea più questi altri segni clinici, altre volte non c'è della diarrea. Ci troviamo di altri segni clinici, per esempio, molte volte dei segni clinici respiratori che in molti cani sono secondari, per esempio a un rifluxo gastrointestinale cronico. Quindi da adesso fino alla fine della relazione non parlerei più di diarrea o in generale si parlerà di meno e parlerò di enteropatia cronica con le diverse possibilità. Quindi alla fine ci saranno 10 differenze nell'enteropatia cronica tra il cane e il gatto. Perfetto, allora iniziamo con la prima domanda, proverò a non dire diarrea cronica e quindi quali sarebbero le cause di questa enteropatia? Bene, quando parliamo di enteropatia cronica dobbiamo dire che prima di tutto la causa più frequente di questa diarrea cronica molte volte è fuori dell'intestino. Parliamo di l'enteropatia cronica secondaria a altre malattie, tanto nel cane come nel gatto, altre malattie come l'ipertiroidismo nel gatto, l'ipodrenocorticismo nel cane o altre possono diventare una enteropatia cronica. Ma le cose importanti sono soprattutto che la seconda più importante è l'enteropatia cronica primaria che risponde alla dieta, tanto in cane come nel gatto è la più frequente. Dopo, sicuramente dopo questa enteropatia cronica, la dieta, ci troviamo l'enteropatia cronica che risponde alle agli antiparasitarie. Sono diversi parasita che dopo ci parleremo, ma adesso possiamo dire che è probabilmente la seconda di primaria. E dopo in cane, probabilmente la terza, qualcuno parla della seconda, va un po' diverso, ci troviamo l'enteropatia cronica primaria, ma che risponde all'uso di antibiotici. Quindi di base c'è un problema, probabilmente la microbiota, che diventa in questa enteropatia cronica. Questa enteropatia cronica solo si trova nel cane, quindi nel gatto è una primera differenza, non ci trova, quindi non debiamo includere la diagnosi differenziale di queste tute dell'enteropatia cronica. E alla fine, dopo l'enteropatia che risponde alla dieta, dopo l'enteropatia che risponde alle antiparasitarie, qualche volta nel cane, dopo l'enteropatia che risponde alle antibiotici nel cane, ci troviamo l'enteropatia cronica che risponde alla immunosuppressione. Quindi qui è dove si lavorerà con diversi farmaci come le glucocorticoidici. E fino a fine sono le enteropatia che non rispondono a tutti gli altri, molte volte perché non si è fatto un buon protocollo diagnostico, altre volte perché non ci sono di prove, di test 100% per sapere che tipo di enteropatia abbiamo, quindi ci troviamo questo gruppo che dopo fare tutto il protocollo qualche volta non rispondono a tutto quanto abbiamo parlato sopra. Perfetto, Ciavi, prima di iniziare a parlare di ogni enteropatia, se ti sembra bene, forse possiamo parlare un pochino del protocollo diagnostico-terapeutico di questa malattia? Sì, è molto importante parlare di diagnostico-terapeutico perché quando si parla, e in questo caso sì che è corretto, parlare di diarrea acuta, quando parliamo di diarrea acuta la cosa più importante non è il diagnostico perché in generale sono di causa che migliorano da sole e in generale solo con la terapia è l'opposo più importante, il trattamento di supporto, ma quando parliamo di enteropatia cronica o diarrea cronica, quindi la cosa più importante non è la terapia perché è cronica, quindi la cosa più importante è sapere qual è la causa, avere una diagnosi, se abbiamo la diagnosi è più facile fare un buon trattamento e più facile alla fine di diventare con una risposta clinica molto meglio. In questo punto parliamo di protocollo diagnostico-terapeutico perché non solo si sono di fare di prove, di test, sino che anche qualche volta questo test è un test terapeutico, quindi vuole dire usare qualche terapia, la dieta o altre e vedere se c'è o non c'è una risposta clinica per ottenere alla fine una diagnosi. Un'altra cosa molto più importante di questo test è che è un test progressivo, quindi iniziamo, mai si fanno due cose allo stesso, perché se fai due cose allo stesso periodo si risponde e non sai a quale risponde, quindi alla fine vai un po' avanti e indietro o se fai, non fai uno o due e vai direttamente alla fine, anche non è buono perché molte volte non c'è una diagnosi e alla fine avete di altre prove che non sono fatte. Quindi come riassunto il protocollo diagnostico-terapeutico inizia con le test iniziali, quindi dobbiamo fare le diverse test per sapere se è un'enteropatia cronica secondaria a un'altra causa o esiologia fuori del gastrointestinale. Dopo, se non troviamo questa causa, se cerchiamo e troviamo di parassita si fa la terapia, ma se non lo troviamo si fa una prova terapeutica e si fa un trattamento contro l'anteparassita. Se c'è risposta abbiamo diagnosi, se non c'è risposta il prossimo passo o situazione sarà la modificazione della dieta. Quindi se ha risposta parliamo di enteopatia cronica che risponde alla dieta. Se non c'è risposta, dopo si fa un trial con antibiotico, con una dieta, ma che questa parte, se c'è una risposta nel cane parliamo di enteopatia cronica che risponde all'antibiotici, ma se non c'è risposta, dobbiamo andare avanti. Ricordate che in questo tipo di esiologia nel gatto si pensa che non esistono. E per finire, dopo aver fatto questo, se tutti non è andato bene, non hanno avuto una risposta clinica o la risposta clinica è stato parciale, qui è il momento di fare la biopsia, fare la conferma della diagnosi. Prima di iniziare la immunosupprezione è bisogno di fare questa biopsia perché tutti gli altri cause di esiologia che abbiamo parlato in istopatologia sono molto simili. Quindi fare la biopsia prima non serve per differenziare le diverse esiologie. Quindi se vogliamo usare l'immunosupprezione, dobbiamo prima fare la biopsia. Perfetto, ciao. Adesso prima di iniziare a parlare di ogni enteopatia primaria, se vuoi parliamo delle enteopatie secondarie, quindi cosa ci puoi spiegare su queste malattie? Sì, l'enteropatia cronica ci sono diverse differenze tra il cane e il gatto e soprattutto, come avevi detto prima, parliamo di un tipo di enteopatia cronica che è abbastanza frequente. Quindi prima di iniziare di prove o di test per valutare il gastrointestinale, dobbiamo fare questo. E anche perché non ci sono di prove specifiche per valutare il gastrointestinale. Quindi prima fare tutte le cose che possano diventare causa di questa enteopatia cronica secondaria. Tanto nel cane come nel gatto usiamo le stesse, quindi più cose è meglio per avere una miglia fotografia di ogni caso. Quindi fare l'anamnesi, l'esame clinico, l'emocromo, l'esame biochimico dell'urina, della sangue, l'analisi dei feci che si fanno la clinica e con questo abbiamo una prima informazione, ma anche è meglio o è bisogno di fare altri test, soprattutto perché ci sono altre cause che non si trova niente in queste prime prove, ma che non sono cause primarie e sono secondarie. Quindi nel cane e nel gatto è buono di valutare la insufficienza pancreatica e socrina o anche la pancreatite cronica o acuta, in questo caso cronica perché abbiamo o una acutizzazione di una cronica, quindi dobbiamo fare queste test particolari. Anche è buono parlare di altre malattie endocrine, per esempio in il cane valutare l'ipoadrenocorticismo, quindi valutare il cortisolo basale e se è 2 o sopra 2 microgrammo decilitri possiamo escludere questi o se noi è chiaro fare anche un test di stimolazione con l'AZTH. Ma nel gatto per esempio è buono, in gatti soprattutto di più di 8 anni, fare una T4, una valutazione della T4 totale per escludere o confermare un ipertiroidismo, un ipertiroidismo che è un'altra malattia che possa diventare un'enteropatia cronica secondaria. Dopo delle malattie infettive e nel cane probabilmente cronica malattia infettiva, la leismaniosi e soprattutto anche all'Italia, qui alla Spagna o in altri paesi del vaccino mediterraneo può essere molto importante valutare sempre la leismaniosi con una sirologia quantitativa per avere un più informazione. Nel gatto anche la leismaniosi, ogni volta vediamo più casi di gatti con leismaniosi segni clinici gastrointestinali ma anche altre più classiche come la FIP o la leucemia o anche la peritonite infeziosa penina che non sono molte volte le cause direttamente ma è sempre importante avere una situazione clinica di queste malattie infettive. Dopo in generale in cane e in gatti fare l'ecografia ci mostrano le potenziali eziologie come può essere di alterazioni nel fegato, di alterazioni ecografiche nel pancreas, di trovare qualche area dell'intestino tenue o intestino grosso che ci troviamo di alterazioni che possono aiutare, non danno una diagnosi ma possono aiutare e alla fine fare la cobalamina e il folato anche in cane come in gatto è più importante in cane il folato ma anche si deve cercare in gatto e la cobalamina è molto importante nelle due. Non sono causa quindi se le troviamo non vuole dire che la causa di quella enteropatia cronica è questo ma sì che è importante per la terapia può perché qualche cane sia i gatto, sia questa deficienza per esempio di cobalamina molte volte non rispondono al 100% anche se hai trovato un'esiologia che si sta trattando. Perfetto adesso se vuoi vediamo le differenze nell'enteropatia primaria che risponde agli antiparsitari, se ti sembra le differenze che esistono tra cani e gatti? Qui, anche hai parlato prima e hai detto che l'enteropatia che risponde alla dieta è molto più frequente è interessante iniziare per questa perché è molto più facile, non molte volte nella diagnosi perché non ci sono anche dei test 100% ma può essere interessante, almeno è più facile perché il cambiamento della dieta è sempre un po' più pesante per il proprietario quindi questa parte può essere molto meglio. Quando parliamo di diarrea, di enteropatia cronica o diarrea cronica primaria che risponde alle antiparsitari ci sono dei diversi studi che alla fine dimostrano che molti delle parassita che abbiamo nel gastrointestinale non sono la causa di enteropatia cronica e probabilmente con un riassunto molto molto estenso ma alla fine probabilmente ci sono due importanti e nel cane la giardia, il cane la giardia e nel gatto la triticomona sono le due parassita probabilmente più importanti. Quindi dobbiamo fare dei test per valutare queste due malattie, possono essere anche l'uso della PCR o anche l'uso di diversi tipi di analitica delle fesce ma anche ci non troviamo se le troviamo abbiamo una diagnosi, iniziamo la terapia ma anche non ci troviamo queste due parassita nel cane o nel gatto è interessante di fare trattamento perché molte volte questi test non sono 100% quindi non possiamo andare avanti alla seguente parte del protocollo diagnostico terapeutico senza essere un po' più sicuro di questo. Quindi nel gatto probabilmente per la triticomona ronidazolo sembra l'unico che risponde bene ma sempre si deve iniziare terapia o con fembendazolo o con metronidazolo se non abbiamo una diagnosi sicura perché il ronidazolo qualche volta nel gatto, anche questo dosaggio è difficile, qualche volta il ronidazolo possa fare dei problemi di effetti avversi nell'uso nel gatto ma anche queste due, fembendazolo e metronidazolo non sono tanto efficaci come nel cane per la giardia può essere interessante il suo uso e soprattutto perché ci c'è una risposta clinica può essere interessante di usare una dieta di prescrizione gastrointestinale o con fibra per valutare il fatto che dopo il trattamento specifico per la triticomona si mantengano quel gatto clinicamente molto meglio quindi dobbiamo non dimenticare che molti di questi gatti sono giovani sono gatti giovani che hanno una diarrea o un'enteropatia di intestino grosso e che molte volte da solo dopo settimana, qualche volta mesi possono guarire quindi è interessante l'uso ma dipende un po' di ogni caso quando parliamo del cane, per un altro lato la terapia è per la giardia e quando parliamo della giardiosi, a questo momento possibilmente l'uso del fembendazolo e del drontal sono le due che più efficaci hanno dimostrato ma anche si può provare con il metronidazolo o il ronidazolo a un dosaggio diverso che nel gatto o fare in 5 giorni metronidazolo più fembendazolo come terapia di questa malattia come nel gatto non sempre ci sono risposte cliniche ma molte volte possiamo trovare una guarizione clinica senza averlo trovato molte volte nelle test che abbiamo fatto per queste parasita e in generale fai in gatto e in gatti e in cane e in gatto sono diversi ma non dobbiamo dimenticare che quando parliamo di antiparassite è buono fare un rimuovere velocemente le fesce dell'aria per ridurre la capacità di reinfestazione di queste due malattie anche ci troviamo qualche posto focolaio che possa esplicare qual è questa reinfestazione può essere anche ideale prendere di misure è buono anche pulire l'aria soprattutto in cane pulire l'aria con una soluzione di clorexidina per anche ridurre questa reinfestazione e per me la cosa più importante che è la stessa in gatto che in cane è che si devono trattare quel cane o quel gatto che ci troviamo segni clinici associati a questa tritricomona o a questa giardia sì, il gatto o il cane sta bene, non ci sono dei segni clinici soprattutto non ci sono diarrea e il cane e il gatto stanno bene anche l'analisi delle fesce sono positive a giardia o a tritricomona è meglio non trattare perché non abbiamo una risposta clinica perché il cane o il gatto sta bene e soprattutto si può predisporre a fare resistenza che già ne abbiamo con questi problemi in molti casi clinici non parliamo ancora dell'antropatia primaria più frequente ma andiamo a parlare dell'antropatia primaria che risponde agli antibiotici quella che hai detto che possiamo vedere nei cani, non nei gatti quindi che ci puoi spiegare di questo? parliamo adesso della che risponde agli antibiotici perché solo è per i cani e soprattutto anche per il protocollo sappiamo che è molto più frequente l'antropatia che risponde alla dieta è importante da un punto di vista clinico fare facile le cose al proprietario quindi se non ha avuto una risposta al trattamento per le parasita poi è interessante prima di fare un cambiamento della dieta mantenere la stessa dieta che sappiamo che non risponde quel cane o quel gatto ma adesso parliamo dei cani non risponde a quella dieta che in quel momento sta a prendere e usando la stessa dieta iniziare la terapia con gli antibiotici e qualcuno di loro perché? perché in cane con diversi percentaggi sembra che può essere una entropatia cronica abbastanza frequente quando parliamo di entropatia cronica e parliamo dei batteri in generale i veterinari usano molto l'ecoprocoltura e questo per me è un errore importante soprattutto perché non è inutile alla fine dell'enteropatia cronica non è utile e alla fine è buttare dei soldi fuori perché non c'è una paragone o una relazione tra queste parasita che crescono la coprocoltura e alla fine la causa di tutto questo quindi se vuole usare in cane può essere utile e anche qualche volta in gatti può essere utile nella diarrea acuta con sangue emorragica o non emorragica con sangue no che hanno febbre leucopenia o leucocitosi che vive dei cani i gatti che vivono fuori o che sono cani che parliamo dei cani che mangiano dell'espazzino o anche questi cani o gatti che mangiano dell'alimentazione raw tutte queste è una diarrea acuta e con questi altri segni clinici può essere interessante fare la coprocoltura per cercare salmonella, campylobacter e qualche volta costridium quindi anche non sempre è la causa ma in questa situazione sì ma no per la diarrea cronica quindi nella diarrea cronica non debiamo spendere soldi per fare una coprocoltura perché non è d'aiuto in questo senso come non possiamo fare una coprocoltura o non ha senso è molto più interessante fare un trattamento una prova terapeutica dentro del protocollo diagnostico terapeutico qui possiamo usare tradizionalmente se è usato metronidazolo e anche la tilosina adesso con la nuova legge europea di antibiotici probabilmente la tilosina non è buono usarla o almeno di prima scelta quindi probabilmente solo il metronidazolo fare questa terapia a questo trattamento ma senza fare altri cambi quindi non fare cambiamento della dieta non fare altri sino solo la dieta che già mangiava e adesso si può includere questo trattamento e dopo questo trattamento c'è una risposta clinica ha senso di avere una diagnosi enteropatia cronica che risponde all'antibiotici e dopo vedere se con qualche altra dieta o qualche altra cosa possiamo mantenere quel cane senza l'uso di antibiotici quindi dopo parliamo dell'uso della dieta in queste situazioni ma ci sono una situazione clinica quando parliamo di enteropatia che risponde all'antibiotici ma di intestino grosso possiamo trovare la particolarità di una malattia probabilmente secondaria alla E. coli alla E. coli e questa risposta strana alla E. coli diventa in un quadro clinico di enteropatia cronica primaria nel cane quindi nel cane se abbiamo questi segni clinici di colitti probabilmente ha molto senso di farle di biopsia ma fare la cultura di questa biopsia quindi quando arriviamo se qui non risponde al metronidazolo non vuole dire che non è una enteropatia cronica risponde all'antibiotico perché questa può essere interessante ma questa abbiamo bisogno sempre di la sensibilità di antibiotici a quella cultura quindi abbiamo bisogno di una cultura ma non una cultura un coprocultura sino una cultura di la biopsia quindi questa biopsia che si farà dopo non a questo momento se non ha risposto alla dieta o altre cose quando arriviamo a quel periodo dove dobbiamo fare la biopsia in quel periodo la biopsia per la parte istopatologica ma anche per fare la cultura di questa biopsia per avere una una diagnosi dopo vedere questi due tipi di enteropatia primaria andiamo a parlare di quella più frequente quella che ci hai detto che si vede più spesso in cani e retti e sarebbe quella che risponde alla dieta sì veramente la enteropatia cronica dopo tanti anni di valutazione della enteropatia cronica in generale si è parlato molto dell'uso dell'immunosupprezione si è parlato molto dell'IBD dell'idiopatica dell'infiammazione intestinale idiopatica che è la che risponde in generale all'immunosupprezione ma dopo tanti anni si sa che probabilmente quasi o molti dei cani con enteropatia cronica hanno una che risponde alla dieta il problema principale sono due uno che non sempre vuole dire che questa è un'allergia perché questa sensibilità che ha alla dieta o alle diversi tipi di prodotti che includono questa dieta non sempre è immunologica molte volte sono per altri motivi quindi non abbiamo di una prova diagnostica per per sapere se abbiamo o no questa allergia quindi l'unico l'unico modo è di fare una una terapia un cambiamento della dieta quindi a qui in questo punto dobbiamo dire che come ho detto prima di la coprocultura e sbottere di soldi fuori qui è lo stesso non è ideale o non è utile per parlare di ipersensibilità alimentare per parlare di enteropatia che risponde alla dieta di fare la detezione per esempio di immunoglobulina in sangue in siero perché non ha nessuna evidenza che veramente questo è di aiuto quindi spendere il soldo in questi test non ha senso è meglio spendere i soldi con le diverse diete per vedertare se c'è o non c'è questo tipo di enteropatia cronica quindi secondo la tua opinione la tua esperienza quali sarebbero queste diete per il trattamento dell'enteropatia primaria ci hai parlato prima un pochino di una dieta con fibra ci hai parlato di una dieta gastrointestinale sarebbero queste ci sono diverse diete che si possono usare per fortuna al veterinario abbiamo questo abbiamo una variabilità per fare una buona scelta di uno o l'altro non c'è una unica dieta che è ideale e dipendono di molti altri fattori come sia un gatto o un cane se l'enteropatia è di intestino tenue o di intestino grosso o è mista se alla fine la diagnosi è un'enteropatia che risponde all'antibiotici ma non al 100% e abbiamo bisogno di altri tipi di dieta tutto insieme fa che ci sono diverse diete che possiamo usare probabilmente a oggi tanto nel cane come nel gatto la prima è la dieta ipolargenica ma che in generale parliamo così io preferisco parlare di diete con le proteine idrolizzate o diete con proteina di esclusione o proteina nuova una proteina nuova è unica in generale queste due probabilmente sono utili in tutti i tipi di interopatia cronica tenue grosso o misto in cane o in gatti quindi può essere una buona scelta ma sempre meglio usare di proteina idrolizzata si è possibile perché e dopo se si fa la diagnosi è una risposta clinica probabilmente ha molto più senso di andare a cercare una proteina di esclusione una dieta di proteina nuova che possa andare bene in generale sono più facili di trovare in generale piacciono più al cane e al gatto e in generale sono molto più economiche quindi questa probabilmente è la prima scelta e nel cane sempre e nel gatto qualche volta possiamo usare di altri perché per diversi motivi vediamo che altri tipi di dieta come può essere questa della dieta di alta digeribilità le gastrointestinali che si parla in generale qui in generale è una terapia di miglioramento di l'absorzione di miglioramento della digerazione digestibilità di queste diete e questo tipo di dieta nel cane e anche nel gatto può essere interessante in tutti le tipi di interopatia tenue intestino tenue intestino grosso misto probabilmente nel cane sempre seconda scelta almeno con le pubblicazioni che ci sono adesso ma nel gatto qualche volta può essere prima scelta quindi molte volte l'idrolizzata in generale sono molto più cara in un gatto si può provare di vedere la risposta clinica con questo tipo di dieta e la ultima serie le diete con fibra e nel gatto sembrano molto più utili che nel cane anche in dieta in interopatia cronica mista non si sa bene perché ma in generale anche per la probabilmente per la modulazione della microbiota per la modulazione della risposta enzimatica di questa microbiota e altri fattori di 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 motilità possono essere molto interessanti in gatto in la mista e anche qualche volta in altri tipi di enteropatia cronica e nel cane probabilmente è la mista ma soprattutto è la terapia di intestino grosso e dove probabilmente ha molta più efficacia può essere interessante tutte queste diette in generale si usano tanto nel gatto come nel cane di due a tre settimane con due settimane deve avere qualche miglioramento se c'è un qualche miglioramento proseguire con questa dieta due tre quattro cinque settimane si sempre che c'è un miglioramento continuare perché soprattutto se c'è un problema di ipersensibilità ha bisogno di fare pulire in qualche senso l'intestino e anche la sangue di tutti questi allergeni quindi abbiamo e se non c'è una risposta in due tre settimane una risposta almeno clinica che si evidenzia anche per il proprietario è meglio cambiare un'altra dieta perché abbiamo come abbiamo visto diverse diete prima di andare a piovante è meglio stare sicuro dell'uso di queste altre diete e anche possiamo usare di dieta molti volte di dieta di questo tipo di dieta quando abbiamo un'altra diagnosi perché per ridurre il dosaggio per esempio di una interopatia cronica che risponde all'immunosupprezione o per non avere il bisogno di usare sistematicamente antibiotici quindi queste dieta la combinazione di queste dieta possono aiutare ci sono due diete che negli ultimi anni si parlano molto e parlo qui dopo perché per me le altre diete a oggi con le che abbiamo pubblicato è la scelta il veterinario deve prendere una scelta di queste tre diete che abbiamo parlato prima ma veramente c'è questo nel mercato soprattutto proprietario hanno un una entrata un inconde e molte informazioni con questo tipo di dieta la dieta raw o la dieta di casalegna il problema principale è che è una dieta estremamente variabile quindi questo è un problema perché se facciamo una diagnosi per protocollo dove vogliamo escludere se questa dieta non è stabile molte volte non sappiamo o è molto variabile non sappiamo se risponde o non risponde perché la dieta non è al 100% la dieta che noi abbiamo usato o vogliamo usare e l'altro punto anche per me molto più importante è quando parliamo di un punto di vista del pet health o del one health perché ci ha visto è chiaro che tutte queste diete hanno un percentaggio o una carica batterica soprattutto molto alta e molti di queste batterie sono anche zoonosi quindi ci sono dei studi dove si è incrementato il numero di casi tanto di umani come di cani e anche qualche volta di gatti di resistenza di batteri molto irresistenti e molto di loro non si sa se possono arrivare per questo tipo di dieta quindi a oggi con l'argomento che stiamo parlando oggi probabilmente usarla per la diagnosi penso che no per questa variabilità usarla dopo la diagnosi è un po' una decisione più del proprietario se abbiamo una decisione possiamo provare di una dieta raw di proteina unica vediamo ma in questo senso la parte di pet health di one health la parte batterica è possibile per me un problema e soprattutto non dimenticare che anche si lavora o si dà della dieta raw congelata questo non voglio dire che non ci sono di batteria c'è una riduzione è chiaro ma questa riduzione è ancora poco valorata e non si sa bene se veramente questo possa fare che questa dieta si può usare di forma più veloce e la seconda dieta è questa la dieta di grain free questo perché soprattutto nel mercato americano c'è una una grande informazione soprattutto per il proprietario ma a questo momento ci sono due argomenti un po' in contra dell'uso di questa dieta il primo è che noi è chiaro il bilancio positivo negativo tra che queste dieta possano veramente aiutare nel miglioramento della perdita di peso di digestibilità ma all'altro lato abbiamo la possibilità di che questa dieta è stata dimostrata in facoltà americana o in università americana di prestigio con ricercatori di prestigio che probabilmente possano diventare l'uso continuato di questa dieta possano diventare nel cane possano diventare queste malattie la miocardiopatia dilatativa e quindi è vero il secondo punto è che in questi ultimi venti anni dove si è parlato molto della dieta gram-free di pubblicazioni con enteropatia sensibile al glutine si hanno trovato molti poche pubblicazioni e tutte le pubblicazioni che si hanno trovato sono vanno sempre o sia sempre se aggiungono con una razza come l'irisetter il border terrier o il soft cotton weight terrier quindi probabilmente se hai una risposta alla dieta se hai un tipo di enteropatia e con qualcuna di queste razze di cane può avere senso di provare in queste cani ma se non ci sono queste razze probabilmente oggi non ha molto senso di provare questo tipo di dieta in questi punti C'è una prova che tante volte si usa nella diagnosi dell'enteropatia ma io vorrei chiederti quando dovremo usare questa prova che c'è la biopsia intestinale e come dobbiamo eseguirla Come ho detto prima quando parliamo del protocollo diagnostico terapeutico che usiamo che abbiamo parlato di diversi punti dove uno tra l'altro e soprattutto non passare a un terzo punto senza avere fatto la prima prova In questo abbiamo parlato che la conferma della diagnosi è prima di iniziare l'uso degli immunosuppressori perché tutti gli altri le l'enteropatia che rispondono alla dieta l'enteropatia che risponde agli anteparassitari l'enteropatia che risponde agli antibiotici nel cane e anche molte altre enteropatia che ci troviamo che ci troviamo di queste secundarie posano alla fine avere la stessa istopatologia quindi fare la diagnosi prima con l'istopatologia non è buono perché puoi perdere i soldi quindi solo sempre qui prima di iniziare è solo se abbiamo un'enteropatia cronica con perdita di proteine o se abbiamo una diagnosi di linfagettasia o una sospetta perché è una razza che ha sospetto di linfagettasia come può essere il George Terrier o di altri o la situazione clinica è molto grave soprattutto perché abbiamo questa ipoalbuminemia o altri segni clinici è importante e quando la possiamo fare qui all'inizio ma dopo escludere le più importanti enteropatia secondaria dopo inizio a fare la biopsia perché se la situazione anche nel gatto o nel cane sono grave non ha senso di aspettare tutti questi protocolli che alla fine è un protocollo che bisogna di parlarlo con il proprietario perché spende soldi e spende tempo quindi il proprietario deve capire che non stiamo giocando sino che stiamo lavorando in un protocollo ma ha bisogno di tempo di andare step by step e di non usare due cose allo stesso tempo e di spendere soldi e di fare diverse prove solo quando in questa situazione può essere importante farlo prima e dove fare la biopsia si farla per endoscopia si farla per cirurgia per la paratomia si usare si fare l'intestino tenue solo duodeno si fare sempre duodeno colon o ilion ci sono diverse situazioni che in ogni caso è diverso ma in generale la idea è farlo sia di intestino una enteropatia di intestino tenue o mista farlo almeno di duodeno e ilion quindi dobbiamo andare per davanti e per dietro perché se no non si arriva all'ilion almeno per prendere delle biopsie soprattutto nel gatto è molto importante questa biopsia nell'ilion e quando è un'enteropatia cronica che sembra molto chiara che è di intestino grosso può avere senso solo farla per dietro e quindi solo prendere delle mostre del colon qui è dove nel caso del cane debiamo parte della biopsia andare per fare istopatologia parte di questa biopsia andare per fare cultura della biopsia non delle delle fesce della biopsia per sapere quale è la batteria sia una ecoli o altra e soprattutto quale è la sua sensibilità frente agli antibiotici per decidere la mezza terapia o il mezzo trattamento più adeguato in questa situazione e l'istopatologia è molto interessante perché poi per esempio se abbiamo una infiltrazione neutrofilica molte volte queste non rispondono all'immunosuppressore e vuole dire che probabilmente ci sono di altre cause probabilmente cause infettive e se abbiamo una infiltrazione neoplastica neoplastica abbiamo già la diagnosi la terapia è per non è un'enteropatia cronica è un'enteropatia cronica ma è per un tumore o se abbiamo una linfoplamocitaria o anche una usinofilica è molto interessante molte volte qui si è l'uso delle immunosuppressore più generalmente una dieta di proteina mineralizzata o una dieta di proteina nuova vediamo adesso c'è l'ultimo tipo di enteropatia primaria c'è quella che risponde agli immunosuppressori quella meno frequente vediamo le caratteristiche e la meno frequente probabilmente oggi pensiamo che è la meno frequente probabilmente molti volte l'uso di immunosuppressori è di aiuto perché molti di queste abbiamo immoblato che c'è una enteropatia infiammatoria cronica e questo tipo di enteropatia infiammatoria cronica la infiammazione veramente gli immunosuppressori e soprattutto le glucocorticoidici sono molto interessanti nella sua terapia in generale quattro idee importanti prima che è una enteropatia infiammatoria cronica che non abbiamo causa se abbiamo trovato un'altra causa quella non è non ha bisogno di immunosuppressori e non ha questo nome questo nome non abbiamo trovato niente più per questo è importante farlo dopo tutto il protocollo diagnostico e dopo la biopsia per avere più informazione secondo che nel cane è importante probabilmente la seconda causa di enteropatia cronica nel gatto ma nel cane la seconda terza perché qualche volta troviamo di parassita o soprattutto di la enteropatia cronica che risponde all'antibiotici che questo è importante nel gatto si può dare qualche tizia all'età quindi in un gatto molto giovane non si possa escludere e in un cane di meno di un anno è molto difficile di avere questa quindi prima si facevano molta diagnosi in cani giovani con questa malattia e molti di questo enteropatia sono secondaria a una risposta alla dieta quindi per questo abbiamo capito che soprattutto in giovani ma in molti cani la enteropatia cronica che risponde alla immunosupprezione non è tanto frequente è multifattoriale quindi non abbiamo un diagnosi la diagnosi per esclusione quindi sempre facciamo il protocollo di adnostio europeutico non facciamo direttamente la biopsia perché l'infiammazione che troviamo non è l'esiologia finale quindi dobbiamo escludere le altre cause prima e soprattutto in cani ma anche in gatti non dobbiamo dimenticare che c'è un percentaggio di gatti e di cane soprattutto cane che alla fine si deve fare l'eutanasia perché non rispondono quindi non si sa la causa anche con tutte le immunosuppressioni anche immunosuppressioni più dieta usando tutto molte volte non si riesce ad avere una risposta clinica e veramente può essere la causa di una risposta alla dieta e quali sarebbero questi immunosuppressori che possiamo usare per questo trattamento si il trattamento di queste di queste essiologia di questa enteropatia cronica che rispondono agli immunosuppressori e fare questa immunosuppressione bisogna usare una dieta o la dieta che è andato meglio quel cane o quel gatto prima di tutto il protocollo diagnostico o la dieta chi si mangia bene il cane o il gatto o le piace al proprietario e dopo iniziare in generale la prednisone e la prednisolone sono prednisone nel cane prednisolone nel gatto sono oggi il trattamento più utile di 1 a 4 mg per kg una o due volte al giorno in generale in cane adesso il dosaggio iniziale si parla di 1 mg al chilo due volte al giorno ma solo due settimane e dopo le due settimane iniziare a ridurre il dosaggio e nel gatto si può allungare un po' più ma in generale dopo due 4 settimane di risposta clinica o almeno di miglioramento si inizia la riduzione di quel trattamento e si può aggiungere in quel momento una dieta che pensiamo meglio per quella situazione sia un'entrepatia cronica di intestino grosso può essere interessante l'uso di una dieta con fibra ma si è per esempio una dieta di intestino tenue probabilmente una dieta di proteina idrolizzata o una dieta di proteina nuova una unica proteina nuova può essere anche molto interessante e il trattamento è lungo di 4 a 6 mesi di trattamento dosaggio ogni volta una diminuzione progressiva del dosaggio e se al diminuire questi dosaggi ritornano i segni clinici o con questi dosaggi o con il tempo di avere l'uso della cortisona escono diversi effetti adversi e quando può essere interessante di usare di altri farmaci nel cane probabilmente la acetioprina può essere una buona scelta a oggi anche è un farmaco molto vecchio la risposta è buona e è anche economico quindi può essere interessante se è un gatto questo non si può usare il colorambucilo può essere una buona scelta ma negli ultimi anni escono diverse nuove farmaci immunosuppressori soprattutto la ciclosporina per il trattamento della enteropatia infiammatoria cronica tanto nel gatto come nel cane può essere interessante o il micofenolato ogni volta sta iniziando a essere ogni volta più usato altre come il metotrexato o anche la budenosodide non si usano tanto perché la risposta clinica non sembra tanto buona quindi probabilmente se non si può usare le glucocorticoidici o insieme con le glucocorticoidici per ridurre il dosaggio o per vedere una media di meno effetti avversi può essere interessante aggiungere questo tipo di farmaci insieme con le glucocorticoide o con il tempo per togliere queste glucocorticoide più veloce o meno veloce per esempio in qualche cane o in qualche gatto o per esempio con una diabete è importante togliere più velocemente possibile queste glucocorticoidici ma allo stesso tempo trattare questa enteropatia cronica che c'è quindi può essere molto interessante ci hai spiegato tantissime cose molto molto importanti tutte ma cosa quali sono quelli punti istintivi che tu credi che dobbiamo ricordare dopo questa relazione io penso che il messaggio più importante il messaggio per portare a casa è che la enteropatia cronica la parte più importante è la diagnosi dobbiamo essere sicuro di qual tipo o almeno avere una sicurità più o meno importante in sapere qual è l'aisiologia perché questo è importante per il trattamento e per la prognosi e questo tipo di enteropatia cronica non sono difficili in generale la parte più frequente sono enteropatie cronica che rispondono alla dieta direttamente o altre cause ma che per il miglioramento finale ha bisogno di questo quindi l'uso di glucocorticoidici e l'uso di immunosuppresori è molto meno frequente che prima si pensava che erano molto più importanti per il trattamento di questa enteropatia perfetto quindi finiamo qua grazie per la tua collaborazione Ciavi come sai abbiamo ritenuto delle domande quindi sei pronto iniziamo subito a rispondere perfetto grazie a voi per l'invitazione grazie a tutti voi per essere qui e adesso possiamo rispondere delle domande o se no c'è la mia email per se qualcun altro vuole fare qualche domanda grazie a tutti Ciavi la prima domanda abbiamo parlato un pochino di alguna tecnica diagnostica adesso ti chiedo la cronoscopia e la cronoscopia quando dobbiamo seguire ognuna? non ci sono una regola fissa ma in generale se abbiamo se pensiamo che il problema coinvolge l'intestino tenue e l'intestino grosso è meglio fare le due se pensiamo che solo c'è l'intestino tenue coinvolto in questi problemi clinici si può fare solo la biopsia per sopra l'endoscopia ma in generale anche si raccomanda di fare la colonoscopia per avere anche la possibilità soprattutto in Cati la possibilità di prendere le biopsie dell'ileo se abbiamo una patologia una sospetta solo dell'intestino grosso in questo caso la colonoscopia è sufficiente grazie abbiamo parlato pure di diete con proteina idriorizzata e diete con proteina di esclusione io vorrei chiederti in base alla tua esperienza ovviamente quale quale consiglieresti usare durante il processo diagnostico per il procedo diagnostico soprattutto sia alla fine hai deciso di prendere come prima scelta una dieta ipoallergenica in questo senso è meglio per me iniziare il protocollo diagnostico terapeutico con le diete che è di proteina idriorizzata perché in teoria deve andare bene per ognuna di queste potenziali allergie o infiammazioni associate a qualche proteina se dopo l'inizio di questa terapia con questa dieta abbiamo una buona risposta clinica nel futuro si può prendere la decisione di cambiare a una dieta di proteina nuova di proteina di esclusione per avere meno costi un costo più piacevole per il proprietario e molte volte più facile di trovare e anche qualche volta anche piace di più a cane e gatti questo tipo di dieta in confronto alle diet che abbiamo di proteina idriorizzata rimango su questo stesso argomento per il trattamento delle enterite croniche ci sono differenze in usare una dieta secca o una dieta umida in generale no quando parliamo di questo tipo di dieta per per usare nel diagnostico nel protocollo del diagnostico terapeutico della gastroenterite o della enteropatia cronica in gatti o in cane non ci sono di differenza se parliamo di altri tipi di problema può essere più interessante una dieta per esempio in malattia renale può essere meglio una dieta umida per il fatto di avere una media palabilità e soprattutto di incrementare per esempio il consumo e la quantità di acqua che prendono gatti e cane ma per il problema dell'enteropatia cronica puoi usare anche per la diagnosi e dopo per il trattamento di umida o di secca dipendendo un po' il cane del gatto e anche del proprietario grazie questa è l'ultima domanda in quei casi di esasservazione dell'enteropatia cronica cosa pensi tu dell'uso della sulfasalasina e della trimebutina in generale non si usano dentro del protocollo di annostito terapeutico che abbiamo parlato perché sono molto specifica di la malattia di intestino grosso per la colite in generale possano essere interessanti ma in tutti gli altri trattamenti che abbiamo visto in questa relazione sono in generale sufficienti per avere la diagnosi e dopo una buona risposta clinica ma qualche cane dove possiamo avere una colite che sia perché con la dieta va bene ma ha bisogno di qualche altra terapia e non possono usare di altri immunosuppressori o delle corticosteroide può essere interessante questo uso ma come molti immunosuppressori o altri tipi di antibiotici possono avere effetti avversi quindi alla fine la decisione finale è una decisione clinica ma sono farmaci che si possono usare quando abbiamo questo tipo di colette coronica grazie Ciavi adesso finiamo qua la relazione grazie di nuovo per la tua collaborazione per essere venuto qua con noi grazie a voi per l'invitazione grazie a tutti i veterinari che hanno stato in connessione o che dopo possano guardare questa relazione a tutti voi mi auguro che questo webinar vi sia piaciuto e come vi dico sempre se vi è sembrato interessante se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like a lasciare i vostri commenti come sempre e ricordate di iscrivervi al nostro canale di youtube così vi aggiorneremo sui prossimi webinar e ci vediamo il 26 ottobre con Laura Ordec con cui parleremo di dermatologia veterinaria grazie per l'attenzione a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti